Si vota al Comune di Udine, si vota in tante realtà, quindi un election day ci sarà comunque. Si tratta di scegliere quello che ha una logica maggiore. Io dico con grande franchezza una cosa, noi andiamo a votare con una legge elettorale per il Parlamento nazionale nuova, dove non c'è il voto disgiunto, dove non ci sono le preferenze, tutte cose che invece si intrecciano male con la legge elettorale regionale. Quindi io penso che l'elezione delle politiche, io ritengo che debba essere sempre più possibile distinta dalle altre tornate elettorali. Boschi può influenzare se noi mettiamo insieme il voto nella testa delle persone. Boschi influenzerà nelle elezioni regionali e nelle elezioni politiche alla stessa maniera, perché non è che dopo il 4 marzo di Maria Elena non si parla più, o non si parla più di Etruria o non si parla più di quello che vuole lei. Il dibattito nazionale sarà sempre questo. Dico semplicemente che essendo una nuova legge elettorale con un sistema completamente diverso che parla di collegi, noi dobbiamo concentrare e lasciare che i cittadini si concentrino sulle elezioni politiche, a mio giudizio delle elezioni molto importanti. È opportuno che si ricandi di Maria Elena Boschi? Ma assolutamente, io sono convinto che Maria Elena Boschi sia una persona per bene, che abbia fatto il suo dovere. ognuno di noi può dire se era opportuno o non opportuno, ma io mi metto nei suoi panni. Dico se ci fosse una banca qui a Trieste di sistema, perché Banca Etruria d'Arezzo è una banca di sistema. Lei, Ettore Rosato, incontra qualcuno di Roma, che facciamo di quella banca lì che so che è messa a maluccio. Che ha delle responsabilità. È un rapporto col territorio. È un rapporto col territorio, ho delle responsabilità. Chiedo a chi sta guardando, visionando un dossier per salvare la banca del mio territorio. Scusa, come siamo messi. Come siamo messi, non ti spingo a fare qualcosa, ma scusa, come siamo messi.